Ciao ragazzi, benvenuti che sono ieri di G.Best Bowmaster Mi sento interrotta la registrazione Che nervoso Basta impegnarlo e accenderlo come un amice C'è un nervoso, come viene? Sì Questo gioco Solo che questo gioco c'ha C'ha niente Comunce Corazzo, andiamo! Siamo perdendo troppo tempo Corazzo, copritevi! Pazzarolo Scusate se non parlo Scusate se non parlo Scusate se non parlo Sei stato fortunato Non ho avuto bisogno di chiederti Strano che ce l'ho fatta Dove avete nascosto Ora grazie raga Per i 60 iscritti C'è anche qualcos'altro che vi interesserebbe sapere Che cosa ci fate qui? Io seguite Mi dispiace signor Ma devo fare Aspettate non fate pazzie Ci serve di Quel bastardo ha violentato d'ora No ascoltate Se lo uccidete dovremo arrestare Come chiamerai bastardo? Pachito? Non ascoltatelo Vi sta solo provocando Con un po' di fortuna Verrà bello come Dopo raga Di ecco Gli altri sono scappati del bosco con la donna In questo momento staranno approcciando il villaggio No Fermate Tranquillo Mi è più Di fuori italiani E d'acchino Italiano Adame E porcini La base E pavola Occhio vince di la casa Occhio che era a dormeri In un modo Nel altro Tutti erano Budi Sono d'acchino Pollo italiani Budi e Aya La più grande cucina d'Italia Siamo pronti Occhio 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 Pucci Javier Zanetti Jerry Scotti Stimano Martino Rossella Brescia Anna Lisa Federica Manicucci Stasera Prima serata Su canale 5 Sei pronto È il tuo momento Perfetto È la tua idea E' la tua versione della storia Clic dopo clic Ad un professionista il suo gioco Scegli la rete Vodafone migliore di sempre E il nuovo Huawei P20 Pro con tripla fotocamera Per foto senza limiti Su una rete senza limiti Così il futuro è straordinario Ready? Uff, che caldo Ma che senso ha Senso ha Senso prendo Voglio il senso fratto Che rinfrescchiera Ma che senso ha Ma che senso vuoi Voglio la freschezza della granita siciliana Con tanto buon succo di frutta Pronta da gelare a casa Trova il tuo senso Anche con la cremosità dei sorbetti E i piaccioni dei gusti glen Cerchi un senso Da Totti Cato, cresco cinque ragazzi E non mi perdo una puntata La vostra scusa Ho spostato due it Ho gestito questo buco E comunque ho guardato Shameless Ero in riabilitazione Ho comunque visto Shameless Ma tu che scusai? Io sto aspettando un bambino Oltre a lui morì Pazziti e in piedi gonfi Ma sono riuscita a vedere Shameless Stavolta non hai scuse Shameless è tornato La nuova stagione E le prime sette complete Solo su Infinity Provalo gratis per un mese Ed esci quando vuoi Che fortuna Sei un maschio Sorprendici Le denti di Mare Blu Squisiti straccetti di tonno Scombro O salmone Per le tue ricette di ogni giorno Scoprile su MareBlu.it Mare Blu Il tuo mare quotidiano Sai papà Dentista per l'impianto Ma chissà quanto ti costa È Dental Pro Preparate Nei centri Dental Pro Hai solo dentisti esperti E selezionati Le tecnologie più avanzate E finanziamenti su misura Checky Pro Dental Pro Prenota un check-up gratuito Nuovo Colgate Expert Complete Il primo sbiancante colgate Che agisce appunto istantaneamente Il nostro migliore dentificio di sempre Per un sorriso più bianco Anni tu ce l'hai Con il nuovo Colgate Expert Complete Spazzolino Max White Con prima sbiancante Spazzolo Sbianca Vare Il mio programma antietà Ogni giorno Autonifico il mio corpo E rassolta la pelle Revitalift di L'Oreal Con la forza del pro-retinolo In un solo gesto Migliora l'elasticità Rassolta la pelle E riduce le rughe Vedo la differenza qui e qui Combat Segni del tempo Con il numero uno degli antietà Revitalift di L'Oreal Noi variamo Con il filmo che già è la mia scelta lento Però che sfortuna Lo applichi dove c'è bisogno Protegge la pelle Riduce l'attrito Previene le irritazioni Filmoker anti-sfregamento Anche in formato stick E se le scarpe fanno male C'è il Fico-Pier-Stick anti-vescite Dermovitamina Filmoker Per prevenire lo sfregamento della pelle Da Valsoia Il gelato va riegato a Marena Cento per cento vegetale Ogni giorno Si a Valsoia Le tue ascelle Le copri di cera Le definiti Le cui hanno messo le detenzioni Dav presenta La sua formula più delicata Per ascelle morbide e lisce Oh E' come tornato E' come noi C'è il mio C'è il mio C'è il mio C'è il mio Copyright in questo posto non c'è più niente ma dovete ancora pagare di che parlate quella nello è falsa il conte vi ha lasciato così male questo zaffire è autentico doveva bastare devono avermelo rubato coi farabutti ne dubito lo avevate quando siamo arrivati ma dopo raga è arrivata mia cugina un attimo dopo raga l'avete dato a guapo per concludere il lavoro perché di certo siete rimasta senza oggetti di valore dopo aver pagato i servizi di Mattias io non ho fatto niente grazie a Mattias i banditi erano sempre informati ma io ho capito tutto quando il pastore mi ha parlato di quei macchinari non servivano per le trivialazioni minerarie erano strumenti topografici non gli interessavano le miniere ma il terreno poi ho letto la notizia sul giornale il mio collega Blaskas mi ha portato i progetti della linea ferroviaria che la compagnia inglese voleva costruire e stranamente attraversa casa Santi Esteban voi non potevate pagare le terre a queste persone per questo potete che se ne andassero e per questo vi siete rivolta ai banditi così avreste dato tutto alla compagnia mineraria realizzando una fortuna questo posto è stato fondato grazie al patrimonio di mio marito con questi fangollosi vorranno restare qui sfruttando quel pezzo di terra come se fosse oro una terra che di diritto ne fa e no non vi apparteneva questa gente sarebbe guadagnata con il sudore della fronte nessuno vi ha regalato niente signora dovete venire a darci delle spiegazioni al comando fate via gioco lag signor Ross ci avete ridato la vita come possiamo ritagliarvi? mantenendo i piedi questo villaggio affinché tutto questo sia servito donna ho una cosa da chiedere nella foresta con i banditi c'era una donna sì vive con gli uomini di stessa quando sono arrivati a te no devi tenere l'ordinario e finire la testa ecco ragazzi deve essere un gay per esempio no è gay non è gay non è gay non è gay è computer lady intanto non è questo so che non farò mai strano eh hai visto cosa tra che tu ne cazzo ancora non lo chiamavo il Gabriele ci gioca non era da me un bar è cosciutto bravo di me laga il gioco non sapevo neanche che ci avessi forse è un bravo ma raga io concludo qua spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi non dite passate di passate di passate di mi sono ciò ciò ciò